e lisa la nostra amica ciao elena ciao e oggi elisa elena conto da 5 15 4 3 2 ma non la vedo praticamente come se avesse davanti un bancone circolare in questo negozio di pietre e cristalli che il negozio è uno studio di rena un posto dove le persone andavano a chiedere a lei aiuto con le pietre e i cristalli una vita passata primi dell'ottocento ok ti dà l'autorizzazione come te la dà mi dice vieni proviamo usare le mie pietre i miei cristalli per per togliere le interferenze proviamoci allora in questo momento davanti al bancone sono arrivate le salte le sue interferenze allora c'è una specie di quella specie di drago un po con la faccia un po umano ed è così cosa tipo un leviatano no vabbè un rettiliano alcun cosa così poi un'aquila e poi è un umanoide con un mantello grigio la pelle un po blu azzurra come al dna siriano anche bella poi allora tipo uno scarafaggio uno scarafaggio gigante un po diverso ma c'è un più o meno uno scarafaggio insettoide basta ok e dl 3 entità mentali di livello 2 e di livello 3 niente di che quella di livello 2 e di cosa si occupa ancora di livello 2 quella che la fa rimanere molto in superficie proprio la allora come vedo elisa ok che ha l'obiettivo davanti inizia a fare tutte le azioni verso il suo obiettivo ok quindi con la strada ben chiara e qual è l'arrivo e poi passati i primi passi che sono quelli superficie questa entità mentale come se le mettesse un un cancello un qualcosa proprio che oscura tutta l'altra parte e quindi lei è come se a quel punto lì in maniera un po stranita però è come se pensasse di essere arrivata alla fine no quindi cambia 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 obiettivo e quindi diciamo non arriva mai al poter utilizzare le cose verso cui va in maniera profonda quindi in maniera completamente efficace ma sempre un po così no e qui ci sono di mezzo tanto gli edl 2 degli edl che ha perché però sono proprio quelli che aiutano questa entità mentale a fare sì che lei pensi di avere degli strumenti efficaci ma che poi però loro che però le bloccano in maniera tale che le vibrazioni non si alzino troppo ma rimangono rimangono sempre un po basse in maniera tale che loro possano rimanere agganciati e prendere energia questa era la 2 la 3 ok la 3 ok la 3 è la proprio direi illusione del controllo vedo che in eterico vedo che come se le cose che ha anche gli oggetti o in casa così le deve mettere come se fossero chiuse in scatole in comparti quindi deve essere tutto molto con una certa sequenza con una sua logica nella mente tutto classificato catalogato si muove vedo che si muove spesso programmando in anticipo ecco anche e poi deve un'altra cosa rispetto a questa cosa che ha necessità per stare bene diciamo per essere l'equilibrio di sapere sempre dove sono le persone a lei care tendenzialmente avrebbe questa necessità poi non sempre accade quando non accade un po come un pensiero no di sapere cosa stanno facendo le persone a lei care perché se sa dove sono e cosa fanno lei sta più tranquilla e come se così con questo pensiero lei sistemasse le persone maniera tale che siano protette vibrazione 28 miliardi consapevolezza 132 psp 41 59 vite precedenti 1524 percentuale di cervello 9.2 elisa degli impianti allora a a questo questo particolare impianto che è una specie di sì una piccola sfera piccola proprio al centro direi sopra la pineale che è come se le facesse quando arriva l'impulso è come se uscisse un laser dal diciamo al terzo occhio ok e è come se spostasse elisa rispetto alla situazione che ha davanti su un particolare che le crea un pensiero di come se avesse un pensiero ricorrente no di ansia o di preoccupazione quindi e poi per cui da quello in parte il meccanismo con cui lei deve avere tutto sotto controllo non so se riuscita a spiegarmi poi 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 l'impianto mentale quello sì quello è mentale poi poi sulla quarta sulle quarte costole a tipo un cerchio appoggiato sul sulle quarte coste ok tutto intorno sia davanti che dietro quel eterico che ho visto più o meno cosa è come se quel questo cerchio qua venisse utilizzato per tenerla ferma c'è radicata però tipo non dinamica ecco statica poi c'era quando aveva ancora l'utero c'era un impianto proprio un cerchio intorno all'utero però non c'è più e poi a due impianti sotto le piante dei piedi basta questi a cosa servono allora vengono utilizzati anche in alcune abduction da cui prendono l'energia della da cui cercano di prendere l'energia della sua ps ok quindi dai piedi e e poi viene vengono anche utilizzati per tenerla statica diciamo abbastanza immobile insieme a questo impianto qua perché da dai due piedi è come se partissero come se questi impianti alle piante dei piedi fossero agganciati a terra ok e poi da lì partissero come delle funi d'acciaio io posso dire non eterico che salgono e arrivano fino a questo impianto qua sulle coste va bene va bene elisa come la vedi la ps la pie e che non mi hanno la ps la pie la ps arriva mi è arrivata ilarità la pie alle arlecchino lecchino arlecchino arlecchino si è come se fosse il nome di un colore cioè multicolore esatto c'è mi fa vedere che ha il vestito di arlecchino sopra la pie ecco come se come alcune coperte va bene nome del progetto di elisa e finalità arrivata una immagine più che un nome presente quelle specie di statuine di legno che hanno tipo due molle hanno una base di legno e poi c'è l'omino di legno che è attaccato su questa base tipo con due molle che se lo muovi fa avanti e indietro ma non si può non può andare avanti ecco mi è arrivata quelle immagini di come se da gancio agganciare il nome del progetto direi quindi renderla sempre agganciata e non cercare di far sì che non che la ps non riesca a liberarsi da questo l'obiettivo ideale che che loro si si pongono con questo progetto è provare a collegare attraverso questi impianti che ne hanno messo costantemente quindi sia di giorno che di notte la sua energia con con o un clone un clone suo e poi farlo muovere o direttamente con provare a far sì che uno di loro è come se riuscissero a inibridare qualcuno con lei e collegassero la sua energia a questo essere il loro obiettivo in realtà non ci riusciranno mai però l'idea l'intento l'intento ok chiamiamo nel cinema due categorie di persone le prima la prima è cinevaccata la seconda no la prima mettiamo il marito e il figlio nella seconda categoria non cinevaccata la figlia e prima volta nella storia chiamiamo nel cinema anche il cane i cani due due perché rilacchi ma perché verbo spiegaci vedi cosa vedi e vedo che arrivano i due cani e vanno uno vicino alla figlia e uno vicino al figlio ok la figlia dove la vedi è in prima fila da un lato dall'altro lato c'è il marito e dietro una seconda fila subito dietro il marito e l'altro figlio ok c'è qualcun altro che non abbiamo invitato e si è presentato lo stesso dice un collega è un'amica sono rimasti un po in fondo bene buona visione a questi ospiti causa esoterica del fatto che resta sempre sul superficiale non approfondisce mai nulla si annoia e non ha una particolare predisposizione per le lingue soprattutto l'inglese allora parte l'entità mentale di livello 2 la vedo allora vedo c'è anche l'interference soprattutto per quanto riguarda le lingue e la noia c'è l'interferenza di questo rettile quella specie di vostro un po particolare rettiliano che praticamente fa sì che allora abbiamo visto proprio forse stamattina verona ieri che le lingue parlare molte lingue fa sì che noi utilizziamo una maggiore porzione di cervello percentuale di cervello e nel caso di elisa siccome comunque lei diciamo era un po ero si era indirizzata verso questa disciplina ok verso le lingue questa interferenza ha fatto sì che lei non le sviluppasse perché avrebbe iniziato utilizzare una buona porzione di cervello in più e quindi la sua evoluzione avrebbe fatto un salto significativo la noia sì 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 l'interferenza punto terrettile e la noia quale c'è diciamo concetto uguale nel senso riuscire a far sì che a una persona si sviluppi la noia per le interferenze è buono nel senso che se una persona si annoia cerca di trovare qualcosa da fare ok di solito c'è qualcosa qualsiasi cosa da fare basta che non ci sia la noia e questo fa sì che la persona si distorga dalla sua essenza ok quindi tutte le volte che nel caso di elisa tutte le volte che magari lei scopre qualcosa che potrebbe essere interessante certe anche solo se lo sente questa interferenza fa sì che lei sia noi è un po anche come succede ogni tanto che invece in altre persone magari altre persone si addormentano e magari in quella cosa dice qualcosa che potrebbe essere utile per la crescita personale per l'evoluzione ma addormentando si vengono distolte da questa cosa e con lei lo fanno attraverso la noia quindi il momento in cui lei inizia noi a si cambia e fa altro causa sottica del grande sconfinato amore per gli animali e per la natura a questo è un ricordo una reminiscenza di una capacità medianica che aveva nella vita passata cioè parlare con la natura gli animali e gli alberi se c'è anche il mondo vegetale ok perché non ce l'ha più ce l'avrebbe se lei ci pensa bene secondo me se ha qualche sede viene in mente qualche ricordo da bambina io la vedo già 3 4 anni che passava molti molti minuti molto tempo con gli animali la vedo che è come se muovesse nuove le mani avrà avuto 3 4 anni con le treccine muove le mani l'apeto davanti a una rana vedo una scena di una rana e vedo la scena di questo cerbiato penso ok è proprio tra tra gli occhi del cerbiato i suoi mentre le muove le mani si si forma proprio un canale di energie di vibrazioni che comunicano tra loro e lei nella mente lo traduce con delle frasi proprio con dei concetti dell'animale cosa dice l'animale al capriolo allora in quel momento gli dice se si comunicano una frequenza di armonia c'è quindi l'animale dice a elisa di seguire le sue vibrazioni per armonizzare lo spazio intorno e quindi quello che fanno in quel momento è proprio creare un'armonia nello spazio intorno la rana la rana le trasmette le vibrazioni della della sensazione di poter vivere un po sott'acqua come dire come se le facesse spiegasse la differenza tra la sensazione che prova respirando nell'aria e la sensazione che prova quando riesce a respirare cioè stare un po sotto l'acqua ok non mi vedo proprio che le fa vedere le due vibrazioni viene fuori l'immagine e le frasi ok elisa non possiamo dire dove abita ma abita in una zona dell'italia che ha una particolare si raccontava allegria innata posso dire la regione si ok la romagna c'è una causa esoterica per cui c'è questa allegria i romagnoli sono quelli che offrono il vino gli emiliani sono quelli che offrono l'acqua visto solo questo sì cioè capisci di essere in romagna se ti offrono il vino se capisce essere in emilia se ti offrono l'acqua dice da tutti i cazzati gli emiliani adesso mi scriveranno sto pensando ai miei parenti mio papà sono emiliani stavano cercando di ricordare se ti offrono almeno il vino rosso in romagna almeno il vino rosso comunque c'è una ragione no ci sono i luoghi comuni ma i luoghi comuni nascondono spesso delle grandi verità allora la prima cosa che mi è venuta è proprio come se vedessi e ci sono tipo delle montagne non tanto alte come se facessero un arco se non mi ricordo la geografia ma quello che vedo è c'è una specie di arco no appena dietro diciamo più o meno che fa un campo energetico lì sotto c'è tipo un campo energetico te lo descrivo allora vedo questa energia che sale tipo da queste montagne no di energia verde è un verde smeraldo vedo che sale a una certa vibrazione e poi come se da queste montagne che se cime andasse giù verso la romagna ok poi verso il mare e il suo colore si espandesse proprio su tutta la romagna e questa è la vibrazione e l'energia dell'allegria ecco ma perché da cosa è dovuto dalla conformazione geografica alla caratteristiche delle persone dalla storia da una energy lines è più tipo un qualcosa di energetico è come se fosse stato lì finisce il po per esempio che finisce con un grande delta che è se vogliamo la parte di questa roba no a propria finale di un posto dove si fermano dei detriti sì è come se facesse rete non so come se trasmettesse una cosa proprio il condividere quel senso lì è proprio il diffondere il rendere omogeneo mi viene no vedo che come se fosse stato a un certo punto ci fosse stata una divisione di energie e quello proprio anche a livello geografico come se fosse stato fatto muovere così apposta fatto muovere non so come tradurre diciamo il gioco il gioco della matrix ecco vedo il gioco della matrix che anche sulla conformazione terrestre è impostato con un senso c'è nel senso le 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 falde non si muovono a caso non si muovono perché si muovono come se facesse parte delle regole del gioco un certo movimento in un certo momento in un certo periodo per creare una certa energia anche sulla crosta anche sulla superficie terrestre ok allora va beh poi l'italia in particolare sappiamo che c'è io lo vedo proprio come il punto più con il sotto l'energia più luminosa e bianca di tutto il mondo come se fosse il gusto la custode dell'energia più forte va bene è chiaro volevi specificare qualcosa nel senso che è come se la conformazione geografica dividesse delle zone con una tipologia di energia particolare no quindi ecco anche le ps possono scegliere c'è se scelgono di fare un'esperienza di allegria provano a nascere in romagna ecco ok siccome dove c'è alta frequenza di solito uno pensa non c'è bisogno no invece secondo me si possono alzare ancora di più le frequenze in modo che diventino come dire la l'inizio di un di un di un qualche cosa che si può diffondere a macchia d'olio mettiamo se vuoi si vuole aiutarmi lo facciamo insieme tu ed io elena e se come abbiamo aperto con i cristalli no elisa una che gestiva va bene facciamo una d'eterno un cristallo una punta di cristallo questa punta è grande chilometri e alta centinaia di chilometri ed è larga decine di chilometri e la mettiamo esattamente nel centro del paese in cui abita elisa quindi il diametro di questo grande cristallone prende chilometri e chilometri punta in suo punto in giù il suo contenso quindi prende l'energia della terra si esatto si è collega proprio e la prende e poi la diffonde ok è un quarzo ed è un accumulatore di energia ad eterniana di ad eternum si riparte dalla regione più allegra cosa vedi allora vedo che le vibrazioni del cristallo ad eternum si si diffondono insieme alle vibrazioni della diciamo della dell'energia allegria ok e le innalzano e diventa un colore più verde un po più chiaro e diventa come se fossero onde prima erano tipo proprio come vibrate come frequenze adesso diventano delle onde ok e vedo le vibrazioni che aumentano tantissimo e anche lo strato di diffusione sia dell'allegria che dell'energia d'eternum diventa molto molto spesso sopra la superficie terrestre ok e a superare le montagne quindi questa vibrazione altissima riesce andare avanti e vedo che si diffonde anche oltre quant'altro potrebbe potenzialmente con quell'energia lì ad eternum potrebbe arrivare potrebbe arrivare ovunque sulla terra è come se io stessi sperimentando adesso di farlo arrivare su tutta l'italia per vedere come va però potrebbe andare anche oltre con l'intento di aumentare la forza cioè possiamo mettere un intento nel cristallo e fare delle vibrazioni che arrivino ovunque ecco facciamolo quindi non ne godono solo quelli che abitano in zona ma anche tutti gli altri con questo ecco insolito mai sentito della mia voce come fa il modem bene però sento la mia voce e c'è no adesso ti affrediamo ma toglie tutto ok quindi non dammi una vibrazione media della basilicata e di a se prima della d'eterno prima della energia della detta ne 58 mi sa milioni però del turinese 32 del cagliaritano 320 ed il paese in cui prima della d'eterno in cui abita elisa 188 e adesso e adesso siamo a 600 miliardi bene abbiamo fritto elisa in padella va bene allora adesso uniamo no prima facciamo il signore degli anelli a 15 anni legge il signore degli anelli si apre un mondo il discorso anche molto lungo dovemo parlare di tolkien eccetera in generale che succede per elisa guardi le vetrine dai dis ha fatto una risata allora 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 la prima fase in cui allora vedo che comunque anche come come film anche alcuni libri li scrivono perché comunque devono dire la verità devono dire come funziona il gioco in qualche maniera ok ma cercano sempre di metterci dentro qualcosa per far sì che le persone si aggancino a livello energetico ok quindi vedo che in una prima fase elisa è stata attratta diciamo trascinata da questo da questa energia che aggancia ma c'è stata una seconda fase tipo da più o meno metà del libro poco più dove la ps ha iniziato proprio invece a vedere il meccanismo vero ea uscire quindi da questa interferenza e ad aprire invece tutta la sua evoluzione la sua consapevolezza iniziato proprio a proprio un passaggio è iniziato a vedere che c'erano altre dimensioni ha iniziato a sentire che poteva evolvere che poteva crescere come consapevolezza il simbolo della del male più il più supremo un occhio in cima una torre sauron ma chi rappresenta simbolicamente a tipicamente ti sento male hai detto no no non avevo detto niente allora io vedo ci vedo la prima cosa che mi è venuta è zeus e quest'occhio è come se lui guardasse tutto e da lì così è teoricamente vedo come se arrivasse un raggio che aggancia chi chi legge o vedersi diciamo in generale gli elfi chi sono rettiliani tanti va bene va buon natale 1 dl se qualcuno vede il primo video questo come per noi sono pazzi e dico è tutta colpa di elena certo sempre colpa di elena che diciamo parolaccio però ora più che un edl babbo natale è un anologo ma non ricordo sistema di credenza esatto collegato secco che è inventato allora hanno inventato una specie di gruppo di discendenti di elohim ad uno dei primi elohim in sé è come se fosse avessero aggiunto un pezzo alla loro creazione religiosa è come se fosse stata una modernizzazione della loro dell'aggancio energetico con le persone attraverso la religione no è come se avesse si fossero accorti che doveva dovevano far qualcosa di nuovo perché stavano perdendo persone agganciate la loro energia quindi hanno iniziato a mettere babbo natale come altre cose come della storia di arlo va bene nell'analisi delle due gravi malattie e interventi chirurgici di elisa per un'occasione di questo visto che lei non ha chiamato nessun disincarnato se invece cambiato idea scrivimelo qui nella chat si è cambiato idea apriamo già il portale aureo e chiamiamo amer il fondatore delle 5 leggi biologiche perché questo perché dimmi scopritore lo scopritore si fondatore fuori scopritore elena con le conosce molto bene questi due dunque un carcinoma e l'asportazione appunto per una grossa ciste di utero e ovaio un anno due dopo ok e chiamiamo anche il padre di elisa quindi madre tutti i parenti di tutte le generazioni di elisa partiamo dei parenti quanti sono 132 tutti via padre come lo vedi allora vedo un po robusto con un cappello con il bordo largo lo vedo un po così un po tipo un bruciato un po preoccupato è come se avesse fosse collegato ancora non è una casa il posto dove lavorava forse o aveva un posto dove lui faceva degli hobby non lo lo so tipo un laboratorio suo come se è legato ancora lì e si trova diciamo bloccato lì perché stava facendo qualcosa in quel periodo in cui è morto e non è riuscito ad andare avanti come se lui fosse tornato lì e fosse rimasto bloccato lì lo vedo preoccupato e ingrucciato perché lui doveva portare a termine questa cosa perché se non la porta a termine dice mi crea preoccupazione se non la porta a termine vuole dire qualcosa la figlia diamogli intanto la vick ah si è vuole dire che nel periodo della sua adolescenza anche se non anche se lei forse non se lo ricorda così vicino lui era molto con il cuore gli era sempre accanto ecco lo vuole dire questa cosa qua un abbraccio la carezza facciamogli assaggiare il cristallo che abbiamo messo in romagna vorrei farsi un giro sulla punta sì praticamente è come se volasse sopra e adesso sostenuto dalle altissime vibrazioni no quindi è come se fosse in una in una galleria del vento no lo tiene su e si sta prendendo proprio tutte le vibrazioni ok lo salutiamo e le invitiamo entrare nel portale aurea no fatto benissimo a mer si presenta come lo vedi lo vedo molto concentrato ancora un po fisso su quello che voleva trasmettere a tutti a tutta l'umanità al come se anche diciamo da disincarnato fosse rimasto nel suo isolamento no quindi lo vedo come come se fosse incastrato in una specie di cerchio sollevato da diciamo da terra ok solo lì può stare e lo vedo concentrato e attento a cercare di trasmettere a tutti questa pezzo che ha scoperto in più che stava cercando di di scoprire cosa allora mi fa vedere tipo un'apertura qua direi io direi dalla pineale come se mi fa vedere una specie di triangolo piramide al contrario aperta sopra da qui esce una luce blu azzurra ok e mi fa vedere che è come se ci fossero mi dice che ci sono come degli impulsi che entrano da lì e e creano delle delle vibrazioni e poi mi fa vedere tipo le molecole del sistema immunitario mi fa vedere tipo i macrofagi e le altre cellule del sistema immunitario e quelle linfatiche e dice e questo è come se queste energie influenzasse anche quelle cioè principalmente quella parte lì mi fa vedere questa cosa qua vedo proprio lo sento quasi no cioè quasi me lo fa sentire come se ci fosse questa energia blu azzurra ok la vedo che circola nei vasi sanguigni nei vasi linfatici proprio vede vasi in tutto il corpo che si muove e trasmette queste vibrazioni a questi vasi ok lui è collegato alla terra ancora dove allora come se fosse rimasto nel concetto di esilio no in cui lui si era messo però al germania doveva sempre vissuto quindi come se fosse come se avesse preso un cerchio di terra dalla svezia fosse rimasto lì e si fosse portato scusa arvegia e si fosse portato sopra in germania dove viveva ok diamo io una picca ok 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 con la vic lui ha visto tutto visto praticamente adesso e sopra si è liberato da questo gancio terreno sta sta osservando quello che mi ha fatto vedere tutta la cosa energetica lì sta osservando elisa sta salvando noi e poi ha girato uno sguardo verso verso la compagna che aveva prima di morire allora è diventato consapevole di tutto di dove adesso è come se dicesse a ecco mi manca c'è è come se vedesse che c'era anche l'influenza di alte le altre dimensioni ci aveva scoperto questo canale energetico ma non completamente non tutta la parte delle altre dimensioni va bene lo salutiamo se vuole andare nel portale auguro non lo so l'abbiamo solo chiamato noi in realtà poi vuole rimanere è come se volesse andare a salutare la sua compagna lo vuole fare adesso vuole non vuole andare nel portale auguro per ora no va bene la causa esoterica del carcinoma salutiamolo allora correlata alle 5 leggi biologiche era allora era legata al sostenere allora allora rappresentativamente è legato al dover allattare qualcuno no quindi proprio con la separazione la separazione da qualcuno che lei considerava come più piccolo quindi da dover allattare da dover a cui dare sostentamento adesso al sinistro non mi ricordo comunque desti è venuto destro al sinistro ok il sinistro riguarda poteva essere la mamma o uno dei figli uno dei figli che magari se n'è andato o con la nonna la nonna morte della nonna magari oppure uno dei figli che se n'è andato è andato studiare all'estero se separato da lei e lei non riusciva a sostenere a sostentare ok e invece la causa dell'utero e ovaglio asportati non aveva più la possibilità su organismo non aveva più la possibilità di procreare per sostenere la baracca cioè per per portare avanti il nido ok quindi diciamo a livello emotivo al è attivato l'utero di più di quello che doveva c'è di più diciamo la sua funzione è aumentata molto perché aveva l'esigenza la necessità di inconsciamente di aumentare il suo nido per far sì che sopravvivesse ok e con l'asportazione vabbè tutto questo è è finito perché non c'era più l'organo su cui l'emozione potesse lavorare ok assolutamente va bene va bene elisa ha analizzato tutto cosa vuole fare non andare al cluster seguiamola ci sono dei fogli per ogni vita è come se c'è un foglio bianco con sopra disegnata una strada grigia così a curve su ogni foglio che è una vita vuole tenere non sta prendendo il portale definitivo come il foglio del carcinoma è molto c'è la strada curva talmente tanto che riempie tutto il foglio da quanto curva ecco sta buttando io tutto può creare una d'eterno quando finita ha votato tutto a forma di cristallo lo lascio qua è molto bello e molto molto bello e particolare perché il cristallo è come se poi riflette cioè emane le vibra rimane alle vibrazioni e poi le vibrazioni come se si specchiasse nel cristallo quindi siri quindi rimbalzano di nuovo c'è come se già poi può essere potente all'infinito però è come se le vibrazioni si moltiplicassero perché rimbalzano su c'è le stesse vibrazioni che escono poi ritornano riescono come dire c'è continua a far così e quindi continuano a riuscire di più ecco la fontana sì ma quasi una fontana che si autoalimenta sì avatar e sì ma è successo è successa una cosa strana la prima volta che mi succede come se hanno cercato di interferirmi perché è come se fossero ma avessero fatto vedere una luce dietro ok e poi come se arrivava una canzoncina chiamali ma chi sono la solita la per la solita uomo energia vai e tutti e due abbracciati se le finiscono nel portale dell'oblio poi chi c'è adesso compare idem uomo energia portale dell'oblio poi basta ok avatar via all'eterno cristallo bene con queste nuove condizioni ci sono ancora le entità mentali e i teri che gli impianti tutto quello che abbiamo visto no c'erano d'action se c'erano ci sono più c'erano cloni il progetto gancio gancio c'è ancora no ok vediamo l'emozionale di elisa a ogni ci sono vibrazioni a bassa frequenza adesso non ci ne sono più ok lasciamo una d'eterno un cristallo qui nell'emozionale uno del corpo fisico uno nel corpo eterico nel corpo mentale e nel corpo subliminale in casa dove lo mette allora pensa praticamente dietro al divano vedo che lo mette come vicino come se ci fosse il divano e poi una parete e lì c'è il passaggio vedo così e lei lo mette di in sala quindi dietro al divano che sensazione di forte nuova frequenza 123 miliardi consapevolezza 158 psp 61 39 vite precedenti 989 cervello 9.4 ok alziamo le frequenze di elisa cioè elisa si alza le frequenze alziamoci le anche noi per i nostri rispettivi obiettivi di vita elena tu mi novole ecco mettiamoci anche noi il cristallo dove abitiamo bel cristallone gigantesco di tonnellate tonnellate tonne di centinaia di migliaia di tonnellate di cristallo piantato con la punta verso l'alto e che nessuno può più spostare dopo mi dici se è successo messaggio finale di elisa a se stessa la prima cosa che mi vuole far sapere che può assolutamente recuperare la capacità medianica di comunicare con gli animali c'è un po lo fa già ma proprio di scambio di messaggi scambio di vibrazioni di intenzioni ok vuole proprio dire ad elisa che per allenarsi ad alzare le vibrazioni lo può fare con gli animali proprio si ferma come fa di solito che di salute invece che è da lì iniziare pian piano ad alzare le vibrazioni quindi ecco può tipo come faceva da bambina a mettere le mani così a far alzare le sue vibrazioni e entrare in contatto con gli animali è la prima cosa per esempio col suo cane anche assolutamente sì oppure gli animali che incontro durante le sue passate anche se si tutti gli animali dietro proprio che dice poi vedo allora mi fa vedere dove lavora c'è la peto nel suo posto di lavoro che può essere quello di adesso è come se tutto intorno a sé dovesse mettere dei colori proprio dei colori diciamo la rappresentazione della sua piemi dice la ps no quindi in questa maniera come se le mettesse sempre la pie fuori che a livello di matrix è visibile anche dagli occhi e così lo può integrare con la sua ps se così riuscisse equilibrare più facilmente le intenzioni della ps la pie e così anche in casa la vedo come se dovesse mettere tanti anche solo dei quadri piccoli di un monocolore no tanti sparsi per la casa mi fa vedere altro beh appunto per l'allenamento di alzare vibrazioni con gli animali si proprio così e pensare al numero che si alza ma sentirei va bene queste cose qua come stai bene abbiamo finito sono divertita